Dal 7 dicembre fino al 10 gennaio tutti i parcheggi a pagamento nel comune di Lucca, sia gli stalli blu che i posti auto in struttura, saranno totalmente gratuiti. Si tratta di una delle prime misure contenute nella nuova manovra economica straordinaria del comune per sostenere l'economia locale nel perdurare dell'emergenza. La Giunta Comunale ha approvato la delibera che riguarda i parcheggi a pagamento e l'accesso alla zona traffico limitato, ma sono previste a breve nuove misure. Dal 21 novembre fino al 31 marzo 2021, inoltre, sarà gratuito il permesso ad un solo veicolo per l'accesso alla zona traffico limitato per la consegna di merci di qualsiasi tipo. Gli operatori che avessero già pagato il permesso annuale potranno chiederne il rimborso di un dodicesimo tramite la compilazione e la consegna di un apposito modulo a metro SRL entro il 31 gennaio del prossimo anno. Quella di sgravare i cittadini per un periodo del costo dei parcheggi e di agevolare l'accesso alla zona traffico limitato, dichiara l'amministrazione comunale, è una misura studiata per sostenere le nostre attività che stanno attraversando la fase più critica a causa delle restrizioni.